Quando ho detto vai su Rai 2, perché chi va su Rai 2 muore, cioè è una roba... Io per adesso, io spero che non accada a noi, però chiunque tocca Rai 2 ultimamente... Però voglio dire, adesso, non è che... Noi andiamo in una fascia, devo dire che meglio di così non poteva andare. E all'1%. Quindi devo dire, fare il 2 non dovrebbe essere un problema.